davanti a sud ovest li vado in faccia anche perché non avrà un'arma cioè è qualche spacca alberi ha fatto il legno per noi lascialo spaccare un altro po aspetta vai che non ha niente non ha niente lascialo spaccare lo saluto rega abbiamo mollato il legno per ringraziarmi sto male rega avete un assalto che lo faccio fuori che faccio la missione vieni qua vieni qua c'ho il vampa non mi piccolare mi ha mollato le granate inizia a parlare con lui sto arrivando è qui che fa cose strane sì sì vecchio tu lascia io lo fare adesso non basta non ti preoccupare a vettagli da una benda ma chioste cose mi fa utilizzare però dai sali che palle madonna se l'antigiene in silenzio proprio per nulla non se l'aspettavo ma anche un poverino la mia benda è stato bellissimo cioè allora savi devo dire che gigi ha ragione mi sarei chiestato anch'io ma è la cosa che hai fatto è stata troppo divertente ma io non so neanche cosa doveva fare giù non lo so tuttora dai dai no savi savi veramente il cazzo vecchia è la terza volta che uno ti chiede una cosa vecchio dio cane la terza bu si vecchio anche l'altro giorno con la storia dei cecchini è solo rotto il cazzo ma se uno se tu chi dici che devi fare la missione uno ti dà una mano posso dirti una cosa in cui siamo tutti quasi d'accordo sei tu che ero il cazzo con la storia dei cecchini e comunque io te l'ho dato a cecchini no ma raga cioè io l'ho dovuto fare con la missione dei cecchini sai per me qualsiasi cosa dici mi fai solo girare il cazzo ok va bene piccazzurissimo ma raga ma a me queste cose fa troppo ridere perchè mi ha fatto ridere il tipo raga era davanti a me io gli ho puntato una pistola e lui ha iniziato a lanciarmi il legno poi si chinava mi lanciava le granate poteva tirare le mie granate me le ha passate è stato bellissimo mi ha cecchicato in testa e comunque non so tutto ora ancora che cosa detto non deve fare di dobbia fare una scala altissima no poi da nessunitone a uccider con l'assalto vecchio o allora è raro difficilissimo ah scusa devi decidere uno con l'assalto è una cosa più difficile della storia guarda ma sul servizio ti stai arrabbiando per così poco ah beh mi cazzo perchè per sempre così ti fai girare cazzo dai guarda ma se quando ti ho fatto un nuovo con l'assalto ti lamenti anche è la missione più facile della storia ho detto cioè invece di farti rinitare insieme a noi di prendere male per questa cosa sai quanti ne sei fuori con l'assalto raga ma quanto regno avete? io ho quasi 900 ho sensato quel cecco 999 raga ci sono comunque io salvo lo share di questa partita perchè è stato troppo divertente quel tipo è come il tipo dell'altro giorno raga io vado all'arte città e riconoscere vai cioè ma poi io quando ho una missione che devo uccidere del progetto e non voglio riconoscere il cazzo alla gente cioè se le faccio le faccio e se non le faccio se non le faccio non le faccio caso strano io ci riesco a farle cioè che ho fatto io possiamo fare così tante facciamo così tante partite che ma si intanto raga faccio anche un po di pietra ah raga non posso più fare nulla ma non mi sento un po di pietra infatti anche io non si morirà no 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 scherzo tu mi ho preso e beeeh io secondo me riesco ad arrivare fuori dalla nebbia ma non so che senso ha comunque c'è un limite becchio tanto sei vicino beh chiuso per forati ok ma non so se riesco ad arrivare fuori dalla nebbia ma sai che conviene forse fare così a rega siamo siamo già al massimo non capisco siamo già al massimo dell'altezza si vecchio basta fare in alto devi fare solo in dentro beh niente raga fine la partita però raga io ho perso un sacco di vita vedete che inizio ah non ti manda neanche costruire questo è il massimo lì sopra non ti fa costruire neanche in orizzontale no 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 infatti non conviene non conviene stava facendo la stessa cosa spariamogli alla scala ma non sono in alto sto male controllo se sono vivi no sono morti sono morti c'è venuto scritto che ho sbagliato il raggio rega erano dei tizi che volevano fare come noi infatti il loro amico siamo 12 secondi non facciamo le doppie rega perché sennò siamo tutti non lo so fa le singole vecchio ah ma voi è nato di la o di qua andiamo io costruirai tipo no no vai perché sennò vai che ci becchia la nebbia vai 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 ok spacca quello non volate giù per favore eh io ho visto che ci sparavano per me ok sa via 190 190 c'è della gente in un fortino c'è uno in un fortino però non so se conviene che lo cecchini perché ci vedono no ma come lo dice prima però rega si vede benissimo la nostra scala è stato messo più guardi siamo ho passato bassa interested Lizzo molto nitida è vero molto nitida comunque io soli o finito è materiale o 100 tipo o 50 mattoni 50 per quanto è l'altra gente sopra l'altra gente crisi di sopra io io iniziere già costeggiare va bene costeggia ma tra un po dovremmo anche iniziare a fare il doppio secondo me occhio sali ma non capisco neanche tu mi ha laggato vi odio abbiamo fatto una cosa bellissima dai raga ma sai che vedi tutto il materiale rega sto cosa faccio ma è laggato più di tanto vabbè rega scendo dai io vivo il cosa rega io vivo il cosa staccato mi sta laggando di brutto non mi è costruito per quello toto 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 dove devi mettere per scendere bruno ma no ma secondo te ho finito il materiale la terra sull'albero magari ti salvi ma fa' un culo eh ti aspetta ti spacco la base com'è se li back a guavo? hai finito il tuo materiale? si vecchio non ti salvi mai vecchio gli sto spaccando le botte rega io sto laggando come un porco e non capisco perché 67 67 27 rega gli sto colpendo e vabbè rega e loro non capiscono da dove ragazzi l'albero non ha sentito la caduta bruno ma sai che secondo me uno l'hai tirato giù grazie a tutti Grazie a tutti.